buonasera dico buonasera a tutti a tutti anche se poi è tipico di questo genere di presentazioni questo genere di registrazioni che poi vengono ascoltate anche agli orari più diversi quindi noi adesso trasmettiamo in un pomeriggio ma siamo indietro in un pomeriggio ma ci ascolterete chissà quando quindi insomma ben trovati siamo qui per presentare un libro è la fondazione gramsci che ha organizzato che noi ringraziamo che ha organizzato questo appuntamento siamo qui per presentare un libro che adesso io vi mostro con i miei mezzi un po artigianali eccolo qua 1980 una copertina molto suggestiva alle origini della nuova andrangheta il 1980 appunto e c'ha un sottotitolo le reazioni del pc e le connivenze della politica e della magistratura l'autore è qui con noi è Enzo Ciconte voi lo conoscete è un politico uno scrittore soprattutto uno studioso un professore un docente uno studioso dei fenomeni della criminalità organizzata su varie diciamo delle diverse organizzazioni qui naturalmente parliamo di drangheta non è un libro che è uscito adesso è un libro che è uscito lo scorso anno in occasione appunto di un anniversario tondo ma ne parliamo adesso perché perché forse è interessante tornare a quel 1980 della Calabria però insomma questo ce lo faceremo dire da Enzo Ciconte con me io farò solamente queste poche note iniziali perché chi non ha letto il libro corra subito a prenderlo lo trova sicuramente ancora in giro lo prenda e lo legga perché questo libro è imperdibile per l'argomento di cui tratta dicevo con noi ci sono due studiosi e testimoni di quei fenomeni ve li presento meglio dopo sono le vedete già nello schermo sono gregorio sorgonà e franco ambrogio dopo ve li presento meglio intanto dico due piccole cose per avviare questo confronto 1980 è un anno cruciale per il globo terracchio cruciale viene eletto a gennaio ronald reagan a febbraio a roma viene ucciso valerio verbano c'è la crisi della fiat che poi a fine anno a ottobre porterà alla terribile chiusura di un ciclo con la marcia dei 40.000 c'è l'uccisione di valter tobagi la strage di bologna la strage di ustica è un anno intensissimo per la storia d'italia anche per la storia criminali d'italia ma anche per l'italia sociale e questo 1980 ci conte ce lo racconta a partire ci sono molti gli eventi che racconta ma a partire da due omicidi l'omicidio di pepe valariotti a rosarno in provincia di reggio calabria e l'omicidio di giannino losardo a cetraro in provincia di cosenza sono due storie tutto sommato poco note una data però per ciconte simbolica ma anche concreta che appunto ciconte sceglie per illuminare un salto di qualità che fa la criminalità organizzata di quel territorio che è l'andrangheta questa associazione criminale fin lì poco conosciuta in realtà sempre un po' misteriosa e meno frequentata dalla letteratura e anche dalla cronaca rispetto alle altre grandi criminalità organizzate mafiose e soprattutto una criminalità molto sottovalutata che decide a fare mi viene da dire questo non lo dice ci conte mi viene a dire a me un assalto al cuore dello stato perché lo dico diciamo sapendo che sto stiracchiando una cosa con l'altra ma di terrorismo mafioso si parla anche in questo libro questa criminalità cerca di entrare direttamente nella nella società politica e di quasi non di sbarazzarsi quasi della della mediazione della politica come reagisce la politica voi sapete che la parola politica è un termine molto generico che adesso uso solamente in maniera strumentale ma che poi toglieremo del campo perché questa è una storia anche sul pc sul pc calabrese che reagisce che conta i suoi morti che fa una battaglia formidabile contro l'andrangheta spesso solitaria mi viene da dire tragicamente bellissima insieme a pezzi di società calabrese pezzi soprattutto della chiesa della dei cattolici di base natale bianchi prete poi sospeso divinis monsignore agostino vescovo di reggio in questa vicenda c'è anche la diciamo la fine di un'illusione di un'illusione di investimento una speranza di un tentativo di investimento nel meridione quella che che fu che che passa diciamo alla storia come il pacchetto colombo una iniezione di soldi nella industrializzazione di calabria e sicilia che però finiscono malissimo ce lo diranno meglio chi l'ha studiato e anche chi c'era ma su questa cosa dice ci conte c'è un buco informativo c'è un buco informativo anche nella narrazione delle mafie del meridione ed è appunto la calabria se ne sa poco e quando si sanno poco le cose poi se ne capisce molto nei nostri giorni fa fa rabbia che quando parliamo di rosarno di quello che succede in quel in quei pezzi di paese eh chiediamo di parlare di di cose che riguardano i migranti invece stiamo parlando eh di di interessi criminali che eh governano quelle zone però senza uno spessore eh che è appunto quello che ci dà questo libro eh di queste cose non possiamo renderci conto io sono una una cronista politica di domani non sono un'esperta di criminalità organizzate sono stata però eh coinvolta in questa in questa presentazione perché ho un'esperienza piccola personale e quell'agosto scorso che riguarda poi i temi che tornano le vicende che tornano eh in questo in questo bel saggio ehm lo scorso sono stata con una troupe eh di colleghi a mh girare un documentario in a a Riace in Locide nella Locide ehm su Mimo Lucano in realtà quello che cercavamo non era tanto il personaggio Mimo Lucano che è stato raccontato in lungo e largo cercavamo un po' la radice di quella scelta la radice di quella maniera di eh fare accoglienza di fare integrazione eh in Calabria e abbiamo stiamo inciampati abbiamo trovato naturalmente quello che cercavamo perché lo sapevamo che l'improvvisazione non si improvvisa e c'era una lunga storia dietro le scelte di Lucano eh ma soprattutto ci siamo mh attraverso di lui eh ci siamo imbattuti nella storia di Valariotti quella di Peppino Lavorato eh Lavorato che è un protagonista della stagione del riscatto del mezzogiorno e della e delle cose che appunto eh di cui adesso parleranno i nostri eh relatori ehm della lotta contro l'andrangheta e ci siamo eh c'è il il murales di eh per dedicato a Valariotti che è a a Riace e ehm Lucano racconta eh molto il rapporto eh come è cresciuto incontrando anche lui quelle storie e quella Calabria comunista che si batteva contro la criminalità e mh insomma una storia questa qua del millenovecentottanta di Ciconte di sconfitte e di vittorie ma voglio dirla con le parole di Ciconte che sono proprio il finale ma non non faccio spoileraggio non non svelo diciamo l'assassino perché lo sappiamo già chi è l'assassino la Calabria scrive Ciconte di quell'anno non può essere rappresentata come una regione in preda all'andrangheta come una realtà perduta ma come una terra reattiva dove tante sono le forze che non si arrendono e che combattono quindi non è una storia di sconfitte è anche una storia di lotte ehm chissà insomma se in queste ore eh qualcosa di quello di cui parliamo a che vedere con queste ore proveremo anche a proveremo a farci direci con te anche a proveremo a farci direci con te